Un caro saluto da Mario Giulianci. Com'è cambiato il clima di giugno in Italia negli ultimi vent'anni? Bene, abbiamo più anticiclone nord-africano, più caldo e più piogge. Vi spiegheremo il perché. Incominciamo con la circolazione atmosferica, che è profondamente cambiata. L'immagine di un copertino mostra la circolazione prevalente in giugno dal 1990 al 2017. È evidente la traccia lasciata dall'anticiclone africano nelle sue frequenti escursioni in giugno dal Marocco verso la Spagna e da qui soprattutto verso il centro nord dell'Italia. Tale configurazione è un'anomalia che si è palesata soprattutto negli anni 2000. L'immagine di un copertino appunto mostra la pressione media, la quota di 5500 m sull'Europa nel periodo 2000-2017. La seconda immagine mostra l'anomalia della pressione alla quota di 5500 m nel periodo 2000-2017 rispetto al periodo 1980-1999. Il colore marrone è il tipico rialzo di pressione lasciato dietro di sé dal passaggio dell'anticiclone nord-africano. Insomma, in giugno negli anni 2000 vi sono state più frequenti invasioni dell'africano verso l'Italia. Ecco le conseguenze di questo fatto sulla temperatura e sulla piovosità. Con più frequente incursione dell'africano ovviamente la temperatura è aumentata su tutta l'Italia, ma soprattutto sulle regioni settentrionali e adriatiche, con massimo incremento sulle regioni di nord-oveste. Queste ultime infatti sono state e sono il primo bersaglio dell'anticiclone nord-africano quando si allunga dal Marocco verso l'Italia. L'immagine appunto mostra gli aumenti di temperatura in tonalità marrone a livello del mare sull'Italia in giugno del periodo 2000-2017 rispetto al periodo 1980-1999. La piovosità come è cambiata? Con la maggior presenza dell'anticiclone nord-africano ci saremmo aspettati che le piogge, per lo più temporalesche, fossero diminuite. Invece, guarda caso, non è stato così. Sono addirittura aumentate soprattutto al centro-nord, come mostra questa immagine che la variazione della piovosità in giugno del periodo 2000-2017 rispetto al periodo 1980-1999. Ma come è stato possibile? La risposta è una a una sola. Probabilmente ha diminuito il numero di giornate temporalesche, ma ha aumentato la loro intensità, ossia quante millimi ricadono in un'ora in uno giorno. Ma perché sarebbe aumentata l'intensità della pioggia, ovvero detto in termini più chiari? Perché ormai quando piove e diluvia? Anche per questo c'è un motivo ovvio. Il suolo sorriscaldato lascia dietro di sé, dall'anticiclone nord-africano, una miscela esplosiva di calura che non appena arrivano le fresche correnti atlantiche danno luogo a contrasti termici così elevati con appunto forti piogge temporalesche piuttosto violenti. A proposito delle perturbazioni atlantiche, queste non giungono più in giugno, come una volta, dalla Francia, perché quelle che si affacciano sull'Europa centro-occidentale vengono deviate dall'anticiclone nord-africano verso più alte latitudini. Invece negli ultimi 10-20 anni hanno in genere raggiunto l'Italia queste perturbazioni attraverso il sud della Spagna. Lo dimostra questo calo di pressione lasciato a livello del mare dal passaggio dei ciclone che accompagnano la perturbazione atlantica, come dimostra la successiva immagine. Sarà così anche il 2018? Beh, buone notizie. Pensiamo di no. Il perché ve lo spiegheremo in un prossimo video tra oggi e domani. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci. Grazie.